ciao mi dici oggi video di recensione di un rasoio specifico per la testa non c'è un box perché l'ho già unboxato andiamolo andiamo a vedere qua la sua particolarità è a cinque testine e vediamo il movimento ecco qua vedete questa cosa qualche va verso il centro andiamo a vedere anche il lato come è fatto c'è questa impugnatura così molto molto facile da impugnare e da tenere nella mano in questo modo ok faccio vedere ecco qua qui abbiamo il pulsante di accensione e gli indicatori della carica della batteria andiamo accendere questo è il rumore che fa non va utilizzato sulla barba perché crea irritazioni è proprio studiato apposta per la testa mettiamo taglia molto bene quindi devo dire la mia esperienza visto che lo sto provando già da una decina di giorni io credo che sia anche un grosso risparmio rispetto a lei la mette perché non so quanto durerà la testina ogni quanto va cambiata la testina allora qui davanti a me la recensione amazon che mi dice che l'ho pagato 68 euro e che ha ricevuto 4 stelle e mezzo cioè tantissimo con 6.600 voti quindi risulta essere la scelta di amazon uno dei più venduti faccio vedere per pulirlo per pulirlo qui c'è una piccola sporgenza si tira fuori e è tutto quanto qua dentro questo lo sbattete sul lavandino a sto punto si sbatte sul lavandino e è fatta va bene ragazzi vi lascio il link amazon in descrizione ci vediamo al prossimo video ciao mitici